Riparte la campagna di comunicazione da parte di Francesco Miccichè, candidato a sindaco della città alle prossime elezioni amministrative. Dopo la pausa del Covid-19, che ha visto fermarsi un po' tutte le attività sociali per via dell'isolamento, in tanti si erano posti il problema di una non possibile riproposizione della sua candidatura, ma lo stesso dottore Miccichè ha smentito tale voce, anzi affermando che ripartiremo con più forza di prima. No, assolutamente è falso, c'è stato sì un momento di silenzio, di riflessione, ma era per il rispetto dell'emergenza Covid, io peraltro faccio il medico, quindi è il mio lavoro, ma è completamente falso il fatto che io avevo cambiato idea, anzi stiamo ripartendo con più forza, naturalmente una campagna elettorale anomala, pochi incontri selezionati, limitati a pochissimi partecipanti e scaglionati anche nel tempo. Peccato, peccato perché quegli eventi che avevamo organizzato uno alla settimana, con tantissimi ragazzi, tantissimi professionisti, tantissimi operatori dei vari settori, hanno avuto un successo grandissimo, ancora la gente se le ricorda, mi chiama, vuole sapere quando ripriamo, naturalmente non possiamo più riprendere quegli eventi con quel tono o con quei numeri dell'inverno scorso. Una campagna molto lunga è stata questa, anche atipica, per via dell'improvviso blackout avvenuto, la candidatura di Miciche è sempre più di carattere civico, con un programma elettorale già preparato con delle pillole che saranno approfondite, da settembre in poi. Io rimango sempre civico, io mi sono candidato e anche sostenuto da amici miei soltanto per agrigento, rimane la mia una lista civica e ci spenderemo per agrigento. Già un programma elettorale preparato, a breve uscirò con delle pillole, tra virgolette, di programma, nel senso che tratteremo degli argomenti di tanto in tanto in maniera molto superficiale e poi il programma vero e proprio a settembre lo pubblicheremo. Sulla mia città io voglio essere ottimista perché se no non sarei sceso in campo, voglio, tra virgolette, smontare agrigento se dovesse essere eletto.